Connettere mondi e realtà differenti attraverso il linguaggio del corpo e della danza è l'obiettivo del Network Internazionale Danza Puglia, giunto alla decima edizione. Quest'anno si apre con il titolo Tessere Trame, un chiaro riferimento alla magia della danza che unisce e connette. La manifestazione ideata dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli si terrà da ottobre a giugno 2024 e intende intrecciare relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud da una parte all'altra del mondo. Una decima edizione è un anno nuovo di partenza, è come chiudere una piccola parentesi e aprire un grande capitolo. Le novità ovviamente continuiamo a concentrarci sull'insegnamento e la formazione, ma abbiamo messo un accento particolare, approfondendo sempre di più quelle che sono le diverse sfaccettature sia verso i ragazzi in formazione nella danza, con uno sguardo più professionale e allo stesso modo anche per gli insegnanti della danza. Un complanno importante è quello del network della danza, ringrazio Ezio Schiavulli che l'assessorato alla cultura segue da sempre, dall'inizio, senza distrarsi appunto dal territorio, con la programmazione pure internazionale importante che l'assessorato ha proposto e offerto alla città e ai tanti turisti che ospitiamo, non ci distraiamo dal territorio. E Ezio Schiavulli ha da sempre ospitato attraverso la sua rassegna di danza, strategicamente, politicamente, un cartellone di ospiti internazionali. L'iniziativa rinnova anche quest'anno l'offerta formativa dedicata a insegnanti e allievi della danza pugliese, tra i luoghi che ospitano le residenze artistiche, anche la Casa delle Culture di Bari nel quartiere San Paolo. Anche quest'anno, come lo scorso anno, ospiteremo tutto il laboratorio di formazione e di ricerca in una delle case del welfare, che è la Casa delle Culture, al quartiere San Paolo. Perciò una contaminazione, proprio in un'ottica di welfare culturale, fra luoghi apparentemente solo rivolti alla cura, con luoghi di promozione sociale.